Buonasera amici di Telemolise, bentrovati per l'ultima edizione del nostro telegiornale. Dopo oltre due mesi i consiglieri regionali hanno incassato in un'unica soluzione gli stipendi di ottobre e novembre, nonché la differenza di quanto non percepito a settembre. I rappresentanti del Movimento 5 Stelle con l'occasione hanno messo in rete un video amatoriale nel quale spiegano come le indennità siano aumentate di 1.600 euro netti mensili. In apertura Giovanni Minicozzi. E' stato il giorno di San Paganino per gli inquilini di Palazzo Moffa che erano rimasti senza stipendio per mancanza di liquidità dallo scorso mese di settembre. Con l'occasione i due eletti del Movimento 5 Stelle, Patrizia Manzo e Antonio Federico, si sono superati e hanno messo in rete a disposizione di tutti un video amatoriale autoprodotto che fa il punto sulle indennità percepite anche in rapporto a quelle incassate prima della legge numero 10 sui finti tagli ai costi della politica che pure erano stati imposti dal decreto Monti. C'è il mese di ottobre intero che porta un netto per me, che sono capogruppo del Movimento 5 Stelle, di 8.400 euro, il mese di novembre altri 8.400 euro, più il rimborso dell'esercizio del mandato del mese di settembre che non c'era stato erogato di 3.150 euro. Quindi in buona sostanza questa posta bianca c'erano tutti insieme 20.000 euro. Questi sono risultati a due mesi e mezzo del nostro mandato. Di questi 20.000 euro io come anche Patrizia Manzo tratterremo a noi solo 5.000 euro e il resto lo andiamo a restituire alla regione come abbiamo già fatto e stiamo già facendo. Andiamo però a notare anche un altro aspetto curioso perché nelle ultime buste paga non abbiamo avuto contezza di alcuni passaggi e non abbiamo potuto fare un raffronto tra quella che era la busta paga di Antonio Federico, capogruppo del Movimento 5 Stelle, che prendeva nel mese di luglio, andiamo qui sul sito se ci possiamo avvicinare al momento, Antonio Federico, luglio 2013, al netto dell'articolo 7, la busta paga era di 6.800 euro. al netto dell'articolo 7, dopo il cosiddetto taglio dei costi della politica e il ricevimento della 174, lo stipendio di Antonio Federico, capogruppo del Movimento 5 Stelle, arriva a 8.400, quindi 1.600 euro in più rispetto a quanto percepiamo come consigli regionali prima del ricevimento della 174. Ormai però il vento sembra cambiato e si è scatenata la guerra al ribasso. I consiglieri regionali, infatti, dopo aver mentito per oltre quattro mesi sui loro stipendi, fanno a gara a chi può tagliare di più, almeno a parole. Sarà vero? Staremo a vedere se sono rose, fioriranno. Ed è Bagarre a Palazzo Moffa sulla proposta di legge presentata da Anunzia Lattanzio per abrogare l'articolo 7. Intanto il governatore Frattura rompe gli indugi e annuncia una proposta di legge per abbassare i costi della politica. Allora ancora Giovanni Minicozzi. La proposta di legge presentata da Anunzia Lattanzio per abrogare il nuovo articolo 7 sui portaborse, licenziata circa un mese fa dalla prima commissione, seppur con parere negativo, non è ancora arrivata nell'aula di Palazzo Moffa, nonostante la pregiudiziale che la stessa Lattanzio ha cercato di esporre, ma non ha avuto la possibilità di farlo. Volevo semplicemente rappresentare che dal 24 ottobre il Presidente del Consiglio regionale aveva ricevuto mandato dai Presidenti dei gruppi consigliari, mandato di inserire automaticamente tutti i provvedimenti licenziati dalle commissioni. Io credo che si stiano violando tutti i principi democratici, sono sconcertata. Il Presidente Vincenzo Niro ha poi messo ai voti la proposta per iscrivere il disegno di legge nell'ordine del giorno dei lavori, ma l'aula l'ha respinta con i voti contrari del centro-sinistra e con l'astenzione di Salvatore Micone, Antonio Federico e Patrizia Manzo. Hanno votato a favore solo i consiglieri di centro-destra, tranne Micone. Intanto il Governatore Frattura ha rotto gli indugi ed ha annunciato all'aula un suo disegno di legge che va oltre l'abrogazione dell'articolo 7. La proposta dovrebbe essere presentata in settimana e prevede anche il prelievo di un contributo di solidarietà sui vitalizi, la riparametrazione delle indennità dei consiglieri regionali per abbassare gli stipendi e una nuova regolamentazione per il gruppo misto. Nunzia Lattanzio però appare perplessa. Io ho altre notizie, so che il Presidente del Consiglio con l'ufficio di Presidenza ha già presentato dei contratti, so che è stata prevista anche una modifica del bilancio e uno stanziamento di 700 mila euro in favore dei contratti che poi saranno appunto disposti per lasciare in vita l'articolo 7, quindi ho informazioni diverse. Intanto dopo la figuraccia rimediata con le Iene diversi consiglieri regionali, ma non tutti, hanno restituito l'indennità per i portaborse indebitamente percepita nel mese di agosto, mentre Nicola Romagnolo, progetto Molise, ha restituito l'intero importo incassato da inizio legislatura. E l'assessore regionale Massimiliano Scarabeo ha detto di condividere la proposta del governatore sull'articolo 7 e ha rilanciato, aggiungendo di essere pronto a presentare un emendamento che riduca drasticamente l'indennità corrisposta ai consiglieri. Per questo, ha spiegato Scarabeo, ritengo giusto che si apra un confronto politico serio e proficuo. Per rispetto, ha continuato, di tutti quei cittadini che si sentono offesi da questi privilegi e che vivono i disagi della crisi. Non voglio fare demagogia né populismo su una questione delicata, anzi, ha concluso, aggiungo che tale scelta doveva essere presa prima che si arrivasse a questo punto. È emergenza frane in Alto Molise. Il sindaco di Agnone, Carosella, ha emesso un'ordinanza di sgombero per tre famiglie di contrada zarlenga. Una situazione drammatica, quella della frazione di Agnone, interessata da un imponente smottamento di terreno. Un'intera collina sta scivolando a valle, ci siamo recati sul posto con Enzo Di Gaetano. Continua in Alto Molise l'emergenza provocata dall'ultima ondata di maltempo. Ci sono ancora situazioni di pericolo per i collegamenti, soprattutto sulla strada per Agnone e Capracotta. Questa mattina, a causa del ghiaccio sul manto stradale, un pullman è andato di traverso e ha bloccato la circolazione. Di automezzi spargisale, neanche l'ombra. Forse ci deve scappare il morto per mettere un po' di sale sulle strade dell'Alto Molise. Ma i danni più gravi il maltempo li ha fatti intorno a Agnone, dove si registrano diverse frane, i movimenti più preoccupanti in contrada zarlenga e in contrada porfilio. In contrada zarlenga sta venendo giù un'intera collina. Il movimento franoso ha investito in pieno un caseggiato, portandosi via una rimessa di mezzi agricoli e una stalla. Ma a rischio c'è l'intero caseggiato, abitato da tre famiglie, con una decina di persone, bimbi compresi. Il sindaco Carosella ha emesso un'ordinanza di sgombero, ma resta il dramma umano di chi, vivendo con l'allevamento degli animali, in una notte ha perso tutto e ora deve andare via. Ma che devo dire? Che vi posso dire? Non posso dire niente perché guarda, che cosa mi ha combinato? Non ho più niente da dire perché guarda, queste condizioni che devo fare? Dimmi, dicetemi voi che devo fare. Quando è successo e come se ne è accorto? Io la mattina alle quattro e mezza sono uscito da dove ho messo a mangiare gli animali, ho trovato questa cosa qua, ieri mattina. Ha sentito del rumore, lo smottamento? Niente rumore, niente. C'era tutto già fatto. Ma si sta ancora muovendo la frana? Ma questa notte ho camminato un pochetto, un altro pochetto sì, pochetto però. Ecco, che cosa ha dovuto fare? Lei aveva i trattori, i mezzi agricoli, gli animali? Tirarlo fuori, fuori, ieri abbiamo tirato fuori tutto e basta, questo è tutto. Il comune che cosa le ha detto? Il comune, la protezione civile, è venuto qualcuno? Ieri è venuto il comune, è venuto tutto, però io non ci sono stato perché ho voluto fare il trasloco per gli animali all'altra casa, trovare le case per mettere gli animali e questo è tutto. Ecco, ma il comune le ha offerto ospitalità? Ma io non l'ho visto, il sindaco è venuto, però io non l'ho visto. Non c'era, non lo so, che cosa ha detto, che cosa... Che cosa farete ora, signor Marco Vecchio? Io non posso fare niente perché io sto qua fino a che poi quando si porta tutto, si porta tutto, purtroppo, che devo fare? Dicetemi voi che devo fare. Ma lei non vuole lasciare qui? Ma come faccio? Dove me ne va? Questa è la casa mia. Sono sacrifici di una vita? Una vita, una vita del mio padre, del mio nonno e io, una vita che qua, questa abbiamo fatto. Di niente, non ci troviamo più niente. E questo è tutto. E alle mie spalle quelle che state vedendo sono le operazioni di trasloco. Già hanno portato via i trattori, hanno portato via le bestie. Ormai qui su, su questa montagna, non ci sono più speranze per restare. La situazione è davvero drammatica. Frutteti e campi completamente invasi dall'acqua nei terreni dell'azienda agricola Desiderio tra San Martino e Campomarino. Ha deviato il suo corso, il fiume Biferno, dopo aver rotto gli argini ora. Tutto il raccolto è compromesso. Sentiamo Manuela Iorio. Alberi di pesche, mele, pere, albicocche, poi farro, orzo, miglio, già seminati nei campi ora sott'acqua. Tutte colture biologiche coltivate con impegno e che ora praticamente sono da buttare. A guardarle si stringe lo stomaco. I terreni sono di proprietà dell'azienda agricola Desiderio tra San Martino e Portocannone al ridosso della statale 87. Sono in queste condizioni da lunedì pomeriggio, da quando ormai aveva smesso di piovere, ma da quando il fiume Biferno è iniziato a gonfiarsi, fino a rompere gli argini in più punti, scaraventandosi con tutta la sua forza nei campi circostanti. Gli argini del fiume non hanno retto alla portata dell'acqua, che è aumentata a dismisura insieme all'acqua del Cigno, che ha portato un'altra valanga di acqua. Purtroppo la cattiva gestione degli argini ha portato all'ennesima catastrofe annunciata. Quanti ettari sono allagati? Allora, diciamo che fra frutteti e seminativi sono circa 20 ettari. Di quello che riusciamo a vedere, perché dove non possiamo andare a vedere non sappiamo. Cosa chiedete? Di essere seguiti, non essere abbandonati, perché noi facciamo gli agricoltori e vorremmo fare ancora gli agricoltori. Ma in queste condizioni l'agricoltura non si può fare più. Adesso a chi dovete chiedere danni? Non sappiamo, perché ognuno ha la sua ragione. Il problema è che noi siamo stati danneggiati, nessun altro. La situazione oggi è questa. La strada che collega a tutti i terreni continua a essere impraticabile. Ormai il Biferno ha deviato il suo corso e passa per i campi dell'azienda agricola. E lo farà fino a quando qualcuno non verrà a sistemare gli argini rotti. Ma finora da queste parti nessuno si è fatto vivo. Il Biferno ha aumentato la sua portata sia perché dall'invaso del Liscione sono state aperte le paratie, ma anche per la tanta acqua arrivata da un suo affluente, il Cigno, che scorre a valle di Casacalenda e Larino. Da Moliseacque parlano di normale rilascio di acqua prevista per questo periodo, ma intanto campi qui così allagati si erano visti solo con l'alluvione del 2003. Per quanto ancora bisogna sopportare danni e tragedie annunciate. Tutto questo, mentre il progetto da 15 milioni di euro, soldi peraltro già disponibili, per mettere in sicurezza gli argini del Biferno, continua a prendere polvere nei cassetti del Consorzio Industriale. E intanto il deputato del Partito Democratico Danilo Leva ha sollecitato la Regione affinché chieda il riconoscimento dello Stato d'emergenza per l'alluvione. Ho già comunicato alla Regione e ai consiglieri del PD ha spiegato Leva l'opportunità di attivarsi con il Governo, come hanno fatto altre Regioni, per rispondere alle esigenze di cittadini e territori messi in ginocchio. Ha concluso il parlamentare dalla recente ondata di maltempo. E intanto in Senato è stata presentata la proposta di legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo. L'hanno sottoscritta 35 senatori di diversi gruppi parlamentari. Il primo firmatario è Roberto Ruta del Partito Democratico e capogruppo in Commissione Agricoltura a Palazzo Madama. Sentiamo Tonino Danese. Oggi più che mai mettere in campo progetti per proteggere e gestire il suolo in maniera sistematica e sostenibile è una priorità che non si può rinviare considerate le situazioni ed emergenze nei vari territori italiani. 35 senatori di diversi gruppi parlamentari hanno presentato una legge quadro in materia. Primo firmatario della proposta è il senatore molisano del PD e capogruppo in Commissione Agricoltura a Palazzo Madama, Roberto Ruta. Essa è frutto di una approfondita elaborazione fatta dai ricercatori delle società scientifiche e agrarie, sostenuti dal Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura e dall'Unione Nazionale delle Accademie per le Scienze Applicate allo Sviluppo Agricolo, alla Sicurezza Alimentare e alla Tutela Ambientale. È qualcosa di importante, ha dichiarato Ruta, perché dei ricercatori hanno messo a disposizione della politica il loro sapere, confidando in una rapida approvazione della loro proposta. Il combinato disposto del decreto legge del Governo per affrontare l'emergenza a terra dei fuochi si unisce e si combina bene con la proposta di legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del territorio. Elaborata questa proposta di legge dalle associazioni di ricerca italiane, ben 19 si sono unite e si sono ritrovate su un testo. Oltre 30 a 4 senatori hanno deciso di sottoscriverlo, di presentarlo come proposta di legge perché sia un punto fermo di discussione elaborato con l'idea che il territorio va tutelato ma va considerato come una gestione da utilizzare in maniera intelligente perché è una grande opportunità di ricchezza per il nostro territorio che è una vocazione agricola e turistica. La difesa del suolo è stato detto alla presentazione della proposta e ribadito da Ruta e gli altri assessori è una priorità cominciare dalla prevenzione del dissesto idrogeologico fino al contrasto di qualsiasi forma di inquinamento del territorio. Per ogni euro speso in tal senso se ne risparmiano 5 per le emergenze. Sono stati stanziati altri fondi con la legge di stabilità ma è stato sottolineato non è ancora sufficiente. Paolo Di Laura Frattura è stato eletto a Bologna all'unanimità dall'Assemblea Generale Presidente dell'Euroregione Adriatico Ionica. Succede a Michele Iorio. A lui ha detto un ringraziamento particolare per il lavoro condotto in questi anni di presidenza fermo restando il contraddittorio sulle politiche attuate nel nostro territorio. Con Iorio oggi proseguiamo uniti nell'importante cammino di condivisione europea avviato a termo le nove anni fa. Ha concluso il Presidente Frattura. A inizio estate i NAS scoprirono in basso molise quattro falsi invalidi che percepivano senza averne diritto la pensione. Ora a distanza di mesi sono indagati anche sei medici che fanno parte della commissione ASREM. Sono accusati di associazione a delinquere finalizzata alla truffa e al peculato. Ancora Manuela Iorio. Disabili al 100% per una patologia che li aveva ridotti a vedere solo ombre per cui prendevano una pensione di invalidità. Ma in realtà conducevano una vita normale, guidavano l'auto e qualcuno ha anche preso una multa per eccesso di velocità. A scoprire i falsi invalidi, due sorelle di Casa Calenda e due uomini residenti a Morrone del Sagno e a Termoli, sono stati i carabinieri del NAS di Campobasso guidati dal comandante Antonio Forciniti, che non si è fermato ma è andato avanti con le indagini che hanno portato a individuare precise responsabilità da parte dei medici che facevano parte della commissione ASREM per l'accertamento dell'invalidità. In tutto seghe sono finiti sul registro degli indagati con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla truffa e al peculato. I medici che operano nella zona frentana hanno fatto parte della commissione tra il 2011 e il 2012. Al momento infatti sono altri dottori che si occupano di accertare le invalidità e nulla centrano con l'indagine in corso. I carabinieri del NAS hanno scoperto che delle tante sollecitazioni a erogare la pensione avanzate dai medici coinvolti, il 95% sono state poi respinte dalla commissione IMSS che dopo i dovuti controlli si accorgeva dell'infondatezza della richiesta. Dottori che trovavano anche il tempo per andare a verificare lo stato di salute dei defunti, confermando così l'invalidità di persone ormai morte da tempo e facendosi pagare dall'ASREM un cospicuo gettone per il disturbo. La procura di Larino ha chiesto per i sei professionisti gli arresti domiciliari ma il giudice Aceto ha respinto la richiesta in quanto la commissione nel frattempo è cambiata ma il pubblico ministero ha fatto ricorso al riesame che proprio in questi giorni dovrebbe decidere. È tornato a parlare della GAM l'ex governatore Michele Iorio controreplicando alle dichiarazioni di frattura. L'attività produttiva della GAM è stata impoverita, il sistema economico ne pagherà le conseguenze e frattura il coraggio di ammettere che per capirci qualcosa ha impiegato nove mesi, ha detto Iorio. Ai lavoratori ha continuato, dico di non accontentarsi di semplici promesse su improbabili soluzioni minimali che già si annunciano all'orizzonte. Sarà interessante capire, ha aggiunto Iorio, a quanto ammonta il danno economico procurato dall'attuale giunta regionale per il mancato impegno finanziario a garantire la continuità produttiva. In una prossima conferenza stampa poi annunciato dirò quanto ho da dire sullo zuccherificio del Molise. A proposito di visibilità, poi sottolineato ancora Iorio, io sono stato eletto tre volte consecutive dai molisani senza imbrogli, senza incesti e senza accordi innaturali e sottobanco mentre Frattura ha vinto solo quando il centro-sinistra, snaturando la sua impostazione politica ha concluso, lo ha utilizzato come veicolo di voti del popolo del centro-destra. Cambiamo argomento, il mancato completamento della Fresilia fino alla Fondovalle Verrino, ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi, penalizzerebbe le tante imprese che operano nelle zone di Agnone, Frosolone e Trivento, puntare su progetti alternativi e il parere di imprenditori e amministratori locali significherebbe sprecare soldi inutilmente. Sergio Di Vincenzo. Senza un collegamento diretto con la Fondovalle Verrino in località Sprondasino non ha senso spendere soldi per il completamento della Fresilia. Lo hanno detto i cittadini, gli amministratori e politici locali durante il confronto con i vertici della regione che si è tenuto a Frosolone. Lo hanno rimarcato con maggior forza gli imprenditori e grazie a loro che l'economia delle aree interne del Molise resiste e per questo hanno tutto il diritto di chiedere collegamenti più efficienti. Un asse di collegamento tra Campobasso e l'area della Val di Sangro darebbe loro quelle risposte attese in vano da anni. Fra i tanti problemi, non ultimo quello della logistica che ci penalizza, penalizza a me, a noi come azienda, penalizza tutto il territorio perché avere delle attività riconosciute a livello nazionale e internazionale delle attività, delle eccellenze in tutti i settori dell'agroalimentare, dell'artigianato perché Frosolone esprime tutto questo. Ci sono 250 imprese, 250 attività che rappresentano solo e esclusivamente il territorio di Frosolone, non è poco. e tutte queste attività noi tutti siamo e saremo ancora di più penalizzati se questa strada non viene o non venisse completata fino a Splondasino. Il completamento della Fresilia porterebbe benefici non solo a Frosolone, al suo Interland, ma anche alle zone di Trivento e Dagnone. Per questo tutti spingono nella stessa direzione. A noi interessa non tanto quello che ogni singolo paese può avere giovamento da questa strada, ma a noi interessa che questa strada sia un collegamento fondamentale per il trasporto merci e che ci tolga proprio dall'isolamento come aria. In questi giorni abbiamo avuto diversi incontri con i comuni di Agnone, Frosolone e Trivento. Abbiamo la volontà di impegnarsi insieme per lo sviluppo di quest'area e pensiamo che questa strada debba essere completata secondo il percorso naturale per rendere fruibili le direttrice nord-sud e non con pezze e rattoppi dove quei 15 milioni di euro che sono a disposizione si rischia semplicemente, come al solito, di buttarli al vento. Il governatore Frattura ha comunicato che la regione mette a disposizione 575 mila euro per gli impianti sciistici di Capracotta da affiancare ai 30 mila euro di risorse comunali. Le piste, ha spiegato, saranno omologate in vista delle finali europee di sci di fondo che si terranno proprio a Capracotta a marzo, ma anche per garantire interessanti ricadute certe ed effettive in termini di richiamo sportivo, sociale e turistico. È pronto il decreto di concessione del finanziamento, ha detto ancora Frattura, previsto nell'accordo di programma PIT Alto Molise e Mainarde 01 per l'immediato adeguamento della pista da sci nordico di Prato Gentile. Lunedì nella sede della Giunta regionale si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'evento sportivo. Il Consiglio Comunale di San Massimo ha adottato una delibera con la quale vengono riviste al ribasso le tariffe per la sosta con custodia a pagamento delle auto. L'amministrazione ha dunque accolto le sollecitazioni di Mario Caruso, amministratore unico di Funivie Molise, e l'iniziativa adottata è una boccata d'ossigeno per gli appassionati della neve che, vedendo ridotto di molto il costo del parcheggio auto, sono anche stimolati di più ad andare a Campitello. Informazioni più dettagliate è possibile averle anche contattando i vigili urbani di San Massimo. Si è discusso di crisi internazionale durante il convegno organizzato dal Centro Studi Molisano in collaborazione con l'Università e l'Ordine degli Avvocati di Campobasso. C'era per noi Marcella Tamburello. La società moderna appare sempre più in crisi. I cambiamenti sociali, politici ed economici, visibili in tutto il mondo, non fanno che determinare prospettive di crescita e di sviluppo, ma anche rischi. Proprio di questo si è parlato durante il convegno dal titolo Crisi internazionale, origini, rischi, prospettive, organizzato dal Centro Studi Molisano in collaborazione con l'Università del Molise e l'Ordine degli Avvocati di Campobasso. Dopo i saluti iniziali del neorettore Gian Maria Palmieri, i relatori hanno affrontato la tematica della crisi sotto diversi aspetti. Tra gli ospiti Gianni Di Giandomenico, rettore dell'Università Telematica Pegaso di Napoli, che ha parlato della necessità del diritto, soprattutto in tempo di crisi. Lo stesso Di Giandomenico ha ricevuto il riconoscimento Centro Studi Molisano, Premio San Giorgio, edizione 2013, assegnato a personalità che si sono distinte per il proprio impegno in ambito culturale. Importante è l'intervento del Professore Andrea Margelletti, Presidente del Centro Studi Internazionali di Roma, Consigliere strategico del Ministro della Difesa, nonché membro del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica. Professore, oggi si parla di Unione Europea allargata, di un Mediterraneo allargato. Ci sono un po' di pericoli, ma anche tante opportunità. Qual è il giusto nesso? Io credo che i pericoli stiano nell'incertezza, ma l'opportunità è nel nostro desiderio di andare avanti, di renderci conto che il mondo non può cambiare senza una presa di responsabilità. L'Unione Europea può fare moltissimo, credo che l'Italia possa fare ancora di più. È il momento di renderci conto che siamo quello che siamo sempre stati, un grande paese mediterraneo, con tutte le responsabilità e naturalmente i doveri che ne conseguono. In un'Europa allargata, l'Italia dovrebbe essere capace di recuperare un posto di rilievo. Cosa dovrebbe fare l'Italia per aprirsi al futuro e allo sviluppo? Investire sulla risorsa più importante, gli italiani. Educazione, cultura, voglia di uscire dai confini. Siamo un po' vecchi, siamo un po' ritrosi a guardare al di là dei nostri interessi. È il momento di cambiare marcia, lo dobbiamo fare. Ci sono state anche a Campobasso le celebrazioni per Santa Barbara, protettrice del corpo dei Vigili del Fuoco. C'era per noi Anna Maria Di Matteo. I Vigili del Fuoco sono i primi ad intervenire in caso di calamità, di gravi incidenti. Lo fanno con slancio e generosità, mettendo a rischio dal volto la loro stessa vita. Una missione è la loro celebrata nel corso dei festeggiamenti di Santa Barbara, patrone del corpo, che si sono svolti a Campobasso. Presenti le massime cariche istituzionali, politiche e militari della regione. Dopo la cerimonia religiosa, la lettura dei messaggi del capo dello Stato napolitano e del ministro dell'interno Alfano, è toccato al comandante provinciale di Campobasso Pietro Foderà tracciare il bilancio delle attività svolte nel corso dell'anno che ormai sta per chiudersi. Sono senz'altro positivi perché c'è una riduzione degli interventi di soccorso significativa che vuol dire che le attività di prevenzione fanno qualcosa, riducono effettivamente gli interventi di soccorso. Siamo stati favoriti, devo dire la verità, anche da una stagione, da condizioni meteoclimatiche molto favorevoli. Nel corso della cerimonia dell'Omelia siete stati definiti angeli che stanno però sulla terra quindi siete un punto di riferimento, date sicurezza ai cittadini. Eh sì, sono i Vigili del Fuoco quando corrono con le loro macchine, con la sirena spiegata, sono considerati proprio... la cosa che ci conforta di più, che conforta di più i Vigili del Fuoco è che c'è una benevolenza particolare da parte della popolazione, dalle persone comuni. Forse non c'è altrettanto da parte dei nostri governanti o delle autorità, però da parte dei cittadini c'è questa considerazione. Tra le autorità presenti è anche Alberta Dell'Isio, direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile. Con i Vigili del Fuoco, ma del resto anche con tutte le altre forze, lavoriamo molto bene sulla sicurezza del territorio. In particolare con loro abbiamo dato il via a una campagna attenta insieme alla forestale sulla prevenzione degli incendi boschivi e poi anche per quanto riguarda le attività di ricerca delle persone in caso di calamità, per esempio con il gruppo Cinofilo. Sono dei momenti di collaborazione importanti che speriamo di poter intensificare nel corso degli anni e nel corso dei prossimi mesi, al fine di poter garantire una maggiore certezza e sicurezza per i cittadini. La protezione civile e Vigili del Fuoco purtroppo sono i primi ad arrivare in caso di disastro, quasi sempre. Sì, in genere arriviamo insieme, cerchiamo di coordinarci al meglio e questa deve essere una certezza per tutta la nostra popolazione, perché possa dormire i sogni tranquilli e avere maggiore sicurezza nel corso anche di situazioni di criticità. Al termine della manifestazione sono state consegnate cinque croci di anzianità e un diploma di lodevole servizio. Prima di chiudere un appello per un cane trovato a Termoli nella zona Difesa Grande, lo vediamo nella foto. Il cucciolo ha circa quattro mesi e cerca qualcuno che voglia prendersi cura di lui. Chiunque fosse interessato ad adottarlo può contattare, come sempre, la nostra redazione. E come sempre io vi saluto, il nostro telegiornale termina qui, ringraziandovi per aver scelto l'informazione di Telemolise. Buonanotte. Grazie. Grazie. Grazie a tutti